e buonasera a tutti ragazzi bentornati sul nostro canale con un nuovo video e in una nuova location siamo al città fiera di martignacco credo che comunque qualcuno lo conosca è famoso per essere stato il luogo in cui è stato fatto il primo old way west infatti andremo all'old west prima o poi ma non è oggi la giornata perché oggi andremo al KFC per chi non lo sapesse il KFC è famoso per il pollo per i chicken nuggets e per i stingers whisk con le alette di pollo e pollo in generale insomma quindi assaggeremo pollo principale e vediamo poi si patatine poi vediamo se ci ispira qualcos'altro vedremo ragazzi non c'è nient'altro da dire noi dobbiamo ancora capire dov'è questo posto perché non lo sappiamo quindi staremo 20 minuti a cercarlo e poi ci vediamo direttamente là bene ragazzi siamo arrivati finalmente al KFC come avete visto e come avete visto anche l'old way west che vi ho appena fatto vedere il primo old way west della storia è assurdo questa roba è proprio qua ma oggi siamo qua al KFC abbiamo fatto vedere appunto anche cosa abbiamo preso ma ricapitoliamo allora un coso bucket che non so pollo si importa poi i pop chickens che sono tutte le palline delle palle di pollo e con lui si è preso il panino bello figlio di pollo faccio una palla di pelle di pollo faccio due pelle di pollo sei una palla di pelle di pollo scusate nel frattempo è arrivata la roba ma finiamo di dirvi intanto che cosa c'è sì e c'è il panino con le patatine panino io non lo vedo eh sarà microscopico vabbè vai e basta tutto qua questa è la pezzi no assaggiamola ha un retrogusto di benzina benzina magari nel nuovo marketing comunque adesso vi facciamo vedere cosa arriva oh Dani l'odore di pollo c'è perché c'è il pollo però però sì e qua non ha capito cos'è qua sono i pop pop corn questo panino questo è il panino ma che cavolo guarda la mano di Dani è piccolissima te guarda come fai se la panina va beh proviamo una patatina va devo dire le patatine non sono malissimo a differenza degli altri non sono mali sono salate crocanti abbastanza buono buono non pensavo chicken tenders credo si è buono ragazzi mi sono dimenticato di dirvi ci arriverà anche il gelato perché si lo ritiriamo dopo che se no si scongelava non è proprio un gelato cosa è un buh non si capisce una mousse di buh non so vedremo ragazzi ci manca il pop corn qua e il panino facciamo questi che dovrebbero essere collettito non so un po' particolari meglio gli altri un po' di benzina mi sento ricaricato ricarburato è arrivato il momento ragazzi di aprire il panino sembra un paninetto che portavo per me nella scuola sto mangiando un morso ma sai cosa c'è un problema di fondo è tutto buono perché c'è questo c'è anche dentro il panino ci sono i questi come si chiamano? boh chi sei qua dentro il panino ci sono le lente di polvo devo dire che comunque sta saziando il tutto pensavo fosse poco invece è giusto ragazzi abbiamo finito tutto adesso finisco anche la pepsi e Danny va a prendere il gelato mousse, boussè, qualche altro vado ciao ciao ecco il gelato adesso lo mangio prima io ma con cos'è? vaniglia buono basta che non sia vaniglia non vi piace la vaniglia poi se non sapete ragazzi la vaniglia la maggior parte delle volte viene dai testicoli del castoro è vero? l'avevi detto tu tra l'altro boh posso mangiarlo addio ma scusa eh ci sta comunque il gelato non ha odore abbiamo scoperto anche questo oggi è buono eh buono buono sa di fior di latte perché il gusto è fior di latte banana no fior di latte oh abbiamo mangiato tutto bene tranne le palle di pollo di pollo del figlio di a pelle figlio di a pollo quindi si comunque è buono adesso ragazzi non dobbiamo indovinare noi il prezzo perché lo sappiamo già se siete stati attenti indovinatelo voi e scrivetelo sotto nei commenti perché il video si vede non tornate indietro perché sennò arriviamo, veniamo in casa e vi tiriamo un colpo in testa salci eh no perché non si fanno queste cose non si fanno si si fanno quindi scrivetelo qui sotto nei commenti il prezzo totale che abbiamo pagato a fine video lo diciamo così non serve che tornate indietro e le controllate quindi passiamo subito alle considerazioni finali palle di pollo un 6 io non... quattro no adesso buon sai le della sufficienza non erano erano buonissime però neanche cattivissime dopodiché le chicken tenders quelle così fritte crobulose con le dietro quelle buone un bel 9 8 e mezzo anche 9 e mezzo perché uno dei polli se non il pollo più buono che abbia mai mangiato la paninetta aveva come ingrediente il chicken tenders quindi anche quello un bel 8 e mezzo anche perché devo dire che non pensavo fosse buono perché era piccolissimo ma pur essendo piccolo mi è piaciuto molto veramente tanto forse il migliore panino devo dire il migliore panino di fast food che abbia mai mangiato per ora è meglio del mac è meglio del mac di mac e roba del genere infatti non ho mai dato un voto così altro per un panino del mezzo per un panino in generale di un fast food e finiamo col gelato che l'avevamo finito finalmente ah sì l'offerta 5x5 è conveniente quindi se venite qua prendete infatti l'offerta 5x5 perché prendete 5 pezzi a 5 euro quindi stra conveniente e sostanzioso comunque gelato io direi un bel 8 a me è piaciuto 8 e mezzo non credevo eh perché ho detto i dolci non mi ispirano invece del gelato mi è piaciuto un bel giro di latte buono buono concludiamo col dire che è costato 17,80 euro 18 euro quindi 9 euro testa io direi non male finalmente un prezzo abbastanza adeguato abbastanza pollo buonissimo quindi venite qua per il pollo e non per altro anche perché non c'è altro non c'è nient'altro da dire il video finisce qua ma prima iscrivetevi al canale grazie alla campanella e condividete tutti i video così tutti sanno che al pezzi si mangia bene il pollo anche se magari tutti lo sanno ma lo diciamo di nuovo qualcuno può anche non saperlo esatto e niente ragazzi ci vediamo a un prossimo video ciao ciao